Se non tante che si muove prima che io lo carichi, stai qualcosa, cosa ti succede? Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guard Ok, allora, dobbiamo iniziare, dobbiamo iniziare perché partiamo da te, però prima, perché hai la nostra macchina, perché? Cendremo questa cartella, ma se la cendessero, non pervi, non c'è la cosa, ho comando, questo è il tuo avviso, mettetelo così, e sperimentate, no, è quello, è quello, è quello, è quello di te, mettete, lo dico così, e sperimentate questa cosa, non c'è la posizione, buttiamo il dito verso quella scuola, si trasformerà, allora, però è ancora giusto, poi c'è ancora il dito verso la scuola, allora, portate il dito verso la scuola, si trasformerà in una palla di toro, non è d'accordo la scuola, già che proviamo qui, sicuro, no, lui no, 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 mi sentite, perché se no, se no si arrabbiano dopo, non mi fate vedere, non mi hanno promesso, ok, allora, proviamo, dai, ok, ok, così, così, si che ferma è ancora giusto, ok, ok, après la scuola è ancora la scuola, ok, ora voi superi il cavo è ancora giusto, ok, non è il cavo che ti va, ok, ok. Oh, no, ok, va, ok, ecco la scuola, va, ok, ok, arrivi al phalanx, ok, va, ok, perfetto,